Conceptual map mappa concettuale formazione software un testo è un testo e un disegno è un disegno ma una mappa concettuale le definizioni non sono univoche si tratta della rappresentazione grafica di un processo mentale per il quale ci si può aiutare con frecce disegni e anche con la multimedialità utile per rappresentare un flusso di pensiero o anche una strategia di ricerca sono molteplici i software disponibili anche gratuitamente per tracciare mappe concettuali